Dopo giovinazzo anche a Molfetta, Coldiretti e gli agricoltori scendono in campo per tentare di arginare l'epidemia da Covid. Ecco il servizio. Hanno letteralmente invaso Molfetta con i loro trattori, un'invasione pacifica che aveva come obiettivo quello di sanificare la città per contrastare la diffusione del coronavirus. Gli imprenditori agricoli Molfettesi e Coldiretti si sono messi a disposizione della città e con 30 trattori hanno sanificato le strade sotto il coordinamento del Comune, della Polizia Locale e delle Guardie Campestri. L'operazione si è tenuta ieri sera e si ripeterà ogni quattro giorni. L'amministrazione comunale ha organizzato le operazioni di disinfezione seguendo i documenti di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in materia di pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza Covid-19. Ringraziamo i nostri agricoltori, afferma il sindaco Tommaso Minervini, per essersi messi a disposizione della nostra comunità. Molfetta ancora una volta dimostra un grande senso di coesione e di spirito di collaborazione. Siamo nel pieno tornado della pandemia e sono certo che con l'intelligenza e l'impegno di tutti supereremo questo grave momento. Il sindaco ringrazierà in forma ufficiale, subito dopo l'emergenza, le organizzazioni del settore agricolo che si sono impegnate con professionalità per la salute della loro città.